Il silenzio del legislatore su un tema estremamente delicato come quello della fine vita. Su questo tema il giudice Marco Billi ha realizzato un libro e lo ha presentato ieri sera a Pescara, a Laurum. Alla presenza di importanti interlocutori, a cominciare dall'arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, ma anche di un neuropedagogista, Marco Santilli e della presidente dell'ISAB, un'associazione che si occupa di malati esla Lorenzo D'Andrea. Ne è uscito fuori un dibattito estremamente interessante, non ideologico, ma che ha tenuto conto di tutti i fattori in gioco rispetto alla delicatezza di questo tema in un periodo in cui in tutta Italia si stanno raccogliendo firme per il referendum sull'eutanasia. Su questo tema e su quello che si aspetta in qualche modo dallo Stato italiano che deve intervenire da un punto di vista legislativo, abbiamo ascoltato proprio il giudice Marco Billi. Penso che sia fondamentale un intervento del legislatore e deve essere un intervento come, ma non lo dico io neanche come giudice, lo dice la Corte Costituzionale, che è l'organo più autorevole che noi abbiamo, deve essere un intervento che non volge soltanto a liberalizzare semplicemente la morte su richiesta del paziente, quindi l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, quello che adesso è omicidio del consenziente, non deve legalizzare, liberalizzare questa condotta, la deve legalizzare, cioè la deve normare, stabilire quali sono i presupposti che devono essere ben codificati, come deve essere accertata la ricorrenza di questi specifici presupposti, come deve essere verificata la genuinità, la spontaneità della richiesta del paziente, come deve essere assistito il nucleo familiare, una serie di problemi infiniti, delicatissimi, che coinvolgono interessi contrapposti, spesso di uguale valore costituzionale, perché da un lato abbiamo la libera autodeterminazione del paziente che dovrebbe e potrebbe ritenersi libero di chiedere qualunque modo di congelo della vita, dall'altro lato però abbiamo un valore, un principio fondamentale anche riconosciuto dalla nostra Costituzione, che è proprio il diritto alla vita e vedere fino a che punto questo diritto si può ritenere esteso fino a consentire al soggetto che è titolare di questo diritto anche il diritto di chiedere che questa vita cessi.